Le Alpini regalano sorrisi ai più piccoli, agli ospili, delle case famiglia. Anche quest'anno torna il Babbo Natale alpino per i bambini ospili delle strutture del territorio. Nei giorni scorsi abbiamo provveduto a raccogliere le letterine dei bambini. Oggi e domani siamo nella galleria del centro commerciale Il Nuovo Borgo per richiedere la vostra partecipazione con un piccolo contributo spontaneo per permetterci di soddisfare le richieste a Babbo Natale. Siamo sicuri che, come sempre, sarete al nostro fianco. fanno sapere dalla sezione Ana di Sulmona. Un piccolo aiuto per un Natale più prossimo e umano. Gli alpini saranno nel centro commerciale oggi e domani, mentre tutti i doni per gli ospili delle case famiglia del territorio saranno consegnati proprio nella giornata del 25 dicembre.